mancano solo 10 giorni al termine del blues call mi raccomando iscriveteci entro il 30 giugno già adesso abbiamo ricevuto tantissime proposte dopo i 30 noi insieme alla staff della Camagno Blues Festival faremo la selezione ovviamente per noi sarebbe bellissimo poter portare tutte le band però questo sarà solo la prima edizione e speriamo di fare tanti altri in futuro mi raccomando iscriveteci entro il 30 giugno non dimenticate